Questa volta le previsioni meteo sono state azzeccate in pieno dagli esperti che hanno anche diramato un'allerta meteo di colore arancione per cui i sindaci dell'Isola Dischi hanno deciso di tenere le scuole chiuse onde evitare pericoli per alunni, genitori e personale scolastico. Infatti oggi 3 novembre 2021 sull'Isola Verde ha imperversato il maltempo che si è caratterizzato per gli acquazioni che di tanto in tanto hanno fatto capolino ma soprattutto per le fortissime raffiche di vento che hanno spazzato l'intera regione. A causa del mare agitato in mattinata solo le navi hanno garantito i collegamenti da e per la terraferma ma già ad ora di pranzo anche i traghetti hanno sospeso le corse. Problemi anche nei porti del Golfo di Napoli. A Pozzuoli la motonave Bilton della Traspemar con a bordo una decina di automezzi della nettezza urbana è rimasta bloccata per ore all'interno dello scalo Fergre a causa dell'elica incagliata nell'ancora della ledica armella della Gestur. A Napoli invece nel porto di Calata di Massa una nave carema è stata scorrazzata dal vento forte ma fortunatamente anche in questo caso senza alcuna conseguenza per i passeggeri. E se per mare il maltempo ha creato disagi e pericoli a terra non lo è stato da meno. Infatti a seguito di alcuni temporali come al solito strade e piazze un po' ovunque sull'isola d'Ischia si sono allagate per la mancanza di un'adeguata rete di smaltimento delle acque piovane. Uno dei comuni maggiormente colpiti come capita ogni qual volta piove è stato senz'altro quello di Forio. Qui oltre a via provinciale Panza a essere diventata un vero e proprio fiume in piena dopo 20 minuti di pioggia battente è stata via Spinavola la strada che dalla Borbonica porta verso il campo sportivo Salvatore Calisei. Impressionante anche l'allagamento venutosi a creare in pochi minuti sull'ex strada provinciale proprio all'ingresso di Forio. Qui sul lago di acqua piovana oltre alle buste dell'immondizia sembravano galleggiare anche le macchine. Persino in via Marina dove da poco sono terminati i lavori pubblici di un primo lotto di interventi non è stato risolto il problema degli allagamenti ed oltre al tombino che da anni ogni qual volta piove continua a trasformarsi in una caratteristica fontanina non manca il classico megapantano, il tutto a due passi dalla sede del municipio. Intanto a pochi metri di distanza da qui continua a piovere addirotto nel tunnel sottostante il soccorso ma nessuno sembra preoccuparsene. Siamo proprio sotto il tunnel del soccorso, vedete per non bagnarsi ci vuole l'ombrello in quanto anche qua sotto piove addirotto. Cosa aggiungere? Vista la situazione speriamo solo che le copiose infiltrazioni d'acqua che si verificano da anni all'interno del tunnel del soccorso prima o poi non causino problemi strutturali a solaio.